Ehi Steve, fermati qui, c'è un pacco da consegnare. Ok, via Giglio 45, è corretto. Sempre la solita storia, ordinano pacchi e poi non si fanno trovare a casa. Eh, è aperto, forse mi ha visto arrivare. Buongiorno signore, sono il suo fattorino Amazon, c'è un pacco pronto alla consegna, è per caso qui? Ai, ma che cazzo fai? Fuori da casa mia, ladro da quattro soldi. Ladro, ma non vede che sono il fattorino di Amazon, sono entrato perché c'era la por... Porco... la vuoi smettere? Hey, chi siamo credenti, non hai visto il crocifisso ai aperit? Sì, mi scusi, devo solo consegnarle il pacco e poi potrò andare via. Come hai fatto a entrare? Glielo stavo per dire, ho trovato la porta aperta e pensavo l'avesse aperta lei per farmi entrare. Oh wow, quindi adesso una porta aperta è diventata un invito ad entrare? Beh, comunque era in casa. Perché non ha risposto quando ho suonato? Non rispondo mai quando non aspetto visite. Ma lei ha ordinato da Amazon, giusto? Corretto. E sapeva che il pacco sarebbe arrivato oggi, vero? Assolutamente. Quindi lei stava effettivamente aspettando che qualcuno le facesse visita, giusto? No, non ne stavo più aspettando nessuno. Ma non ha completamente sé. Ok, senta, non ho tempo da perdere. Prenda questo pacco e... Ma chi minchia è quel tizio mascherato nell'altra stanza? Oh lui. Credo è sia il fattorino di Amazon. Entrato in casa 15 minuti fa forzando la serratura.